Diceva Andrew Kennergy che era un grande filantropo che è molto più facile guadagnare il denaro che non cercare poi di spenderlo nel modo più opportuno. Fondazione CRT ha deciso di intraprendere un percorso insieme a Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo sui temi proprio dell'innovazione sociale e della cooperazione internazionale attraverso l'uso di strumenti innovativi. Si concentrerà nell'ambito del progetto proprio alla parte definita Data for Good, quindi l'utilizzo dei dati per il bene. Andare ad indagare, ad utilizzare questo strumento anche nell'ambito del sociale e del welfare è per noi divenuto un momento anche di riflessione importante nel comprendere come migliorare la nostra missione. Fondazione CRT nel tempo è stata antesignana, devo dire un po' nel credere proprio nella scienza della complessità e nella forza dei big data che oggi sono molto di moda ma che certamente lo erano molto meno fino a dieci anni fa, ancor meno quando abbiamo iniziato questa avventura con l'Institute for Scientific Interchange che è una fondazione, Easy Foundation, che si occupa da sempre di scienza della complessità e big data. Per noi questa è una punta di orgoglio ma anche un po' di espressione, di una visione che ha saputo quindi vederci da lontano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!